A Genova ci hai parlato tanto della situazione del verde pubblico, qual è la situazione dal vostro punto di vista? Cosa servirebbe? Servirebbe un piano del verde fatto bene, studiato, con un'attenzione seria al verde e una manutenzione seria del verde. Perché il problema non è che non si deve abbattere un singolo albero, il problema è che se non si controllano gli alberi per dieci anni poi gli alberi sono da abbattere, ma sono da abbattere perché non sono stati controllati per dieci anni. Cioè il problema è la mancanza di manutenzione. Ma la quantità di verde è sufficiente? Allora, le statistiche di Bucci dicono che ce ne abbiamo tantissimo perché considerano i boschi nelle alture. Però i boschi nelle alture sono una cosa diversa dal verde urbano, ecco, quindi noi dovremmo lavorare sul verde urbano.